Sabato 23 aprile si terrà presso il poggio del Cardinale di San Nicola di Centola un incontro su una tematica di grande rilevanza sociale, quale la donazione di sangue. L'Associazione Donatori di Sangue del Cilento, comprensorio di Vallo della Lucania, Sapri e Roccadaspide, ha organizzato questo meeting al fine di sensibilizzare le persone e far sentire la vicinanza a coloro i quali si trovano in una condizione di particolare bisogno. Presente all'evento il presidente dell'Associazione Tonino Casale, esperti del settore e diversi donatori, nonché le dottoresse Maria e Veronica Di Vice, che ospiteranno lo staff medico e paramedico e tutti i donatori affinché si possa porre una maggiore attenzione verso il sociale e la collettività. Un pensiero proiettato al volontariato, dichiarano dall'Associazione Donatori del Sangue del Cilento. Atto di riconoscimento da parte dell'Associazione sarà una targa che affiggeremo all'interno della struttura, per segnare e ricordare un giorno importante da ripetersi e contagiare le altre associazioni ad essere sempre più attive verso il sociale. Grazie. Grazie.